coach pezzi l'unennesima vittoria ho visto che avete festeggiato con la birra e mi dica le proprietà organolettiche della birra che appena bevuto guarda abbiamo usato una birra scura che era eccezionale l'abbiamo bevuta insieme agli amici quindi ancora meglio dopo una bella vittoria ancora meglio la migliore in campo oggi anche se non c'è la birra sicuramente la birra è la migliore in campo grazie molto gentile prego ecco ives buonasera ho visto che al cronometro non sei riuscito a seguire neanche un pezzo di partita è vero si quasi quasi giusto senti la migliore giocatrice in campo secondo te la kp hai visto che l'ho tenuta in panchina 20 minuti sì era anche giusto ottimo così gli altri hanno giocato un po di più molto bene allora non mi licenzi stavolta per questa volta no molto bene è bello è bello avere dei dirigenti che non ti licenziano